Va tutto benissimo, dobbiamo cercare di fare in modo che questa tavola rotonda non sia il proseguimento pure semplice della prima metà della riunione, ma sia un dialogo tra di voi in cui io posso fare come operazione un po' quella di moderatore. Ma vorrei sentire su questi temi, soprattutto sui temi più legati alla carta di Fontecchio, cioè al futuro, alla possibilità che la carta di Fontecchio diventi uno strumento per andare oltre, quali sono le posizioni che sono emerse, cosa avete colto voi di importante e quale suggerimenti potete dare, perché questa carta di Fontecchio non rimanga un libro dei sogni, ma si trasforma in uno strumento reale. Chi vuol cominciare? Allora io, Betto ci ha detto due cose, fate il dialogo oppure rispondete a tre domande, io rispondo a tre domande, quindi erano due cose alternative. La domanda è cosa ciascuno ha preso da questa tavola rotonda, cosa pensa della carta, cosa fate per andare avanti su questo impegno. Allora, che cosa ho preso? Ho preso tante cose, però purtroppo ho preso una cosa che mi ha sconcertato. Ed è stato, purtroppo è andato via, è stato il direttore dell'associazione della quale faccio portare da 46 anni, il quale ha detto che non c'è niente da fare, bisogna discutere quello che c'è sul piatto. Mi ha sconcertato, mi ha lasciato veramente... E al di là del merito, cioè del dire che è una posizione che si condivide o non si condivide, però mi ha dato l'intervento di Gaetano Benedetto un'immagine, mi ha dato l'immagine plastica di quello che non è la carta, di cosa non sono i soggetti che questa carta hanno voluto e cercano di portarla avanti e per fortuna, soprattutto, mi ha dato l'immagine di cosa non è stato l'ambientalismo italiano che ha prodotto la legge quadra. Un ambientalismo che parte da molto lontano, faccio lo storico, queste sono le cose che conosco, e che ha un momento di snodo fondamentale che Betto Pinelli conosce molto bene, che è stata la Costituzione del Gruppo Verde di Italia Nostra e tutte le iniziative che dal 62 al 64 in particolare, ma poi gli anni successivi, hanno portato avanti come piccolo gruppo di 5-6 persone, un po' sotto l'ala benedicente di Antonio Cederna, diciamo così, in qualche modo. Sì, Bonaldo Stringer però faceva parte organica del gruppo. Ecco, se Bonaldo Stringer, Betto Pinelli, Arturo Osio, Fulco Cratesi, avessero avuto un atteggiamento realista, come è quello stato mostrato oggi, purtroppo, di Gaetano Benedetto, forse alla legge quadra non saremmo arrivati. Questo è un mio giudizio personalissimo, da storico, che ha questo sguardo strano, che è uno sguardo molto esterno alle vicende dei parchi, molto più esterno di quello di Giorgio Boscaio, di Dario o anche di Carlo Alberto, persone che nei parchi ci sono stati, ci stanno, li hanno vissuti in prima persona. Però è uno sguardo che ha la sua legittimità, perché lo guarda da storico nel tempo lunghissimo, nei ormai 100 anni di esistenza delle aree protette italiane. Quindi questa è la cosa che mi ha colpito di più, di cui volevo dare testimonianza. La carta, cerco di dirlo velocemente, io sono stato estraneo proprio alla sua formazione, è una cosa che ho visto molto da lontano e fino a tempi recenti non la conoscevo neanche bene. L'ho approfondita questi giorni in previsione di questo incontro. Bene, è un documento importante, contestualizzato nella parabola storica dei parchi italiani e credo che resterà importante anche se, come nessuno di noi si augura, non darà frutti. Per quali motivi? Primo perché è un documento necessario. La crisi ambientale è una crisi gravissima, che è globale e che è italiana in particolare. E un documento di questa ampiezza, di questa forza e di queste ambizioni è un documento necessario, perché sta a livello della gravità della crisi. Questo è il primo elemento. E se c'è una cosa del documento con la quale io non concordo, però se ne potrebbe discutere, sarebbe interessante discuterne, è l'ottimismo quando dice che è un bisogno molto sentito quello di natura. Non lo so, forse oggi, posso sbagliare, forse oggi è meno sentito di 30 anni fa. Combattiamo anche con questa percezione che si è diluita rispetto a 30 anni fa. È un documento necessario ed è anche un documento inattuale. In questo senso ha ragione benedetto, anche se poi arriviamo a conclusioni diametralmente opposte. È un documento inattuale perché le ragioni dell'ambientalismo, le ragioni dei diritti collettivi, sono molto meno forti oggi di quanto non fossero 30 o 40 anni fa. Le ragioni condivise, diciamo così. Ed è inattuale, nella stessa misura, di un documento altrettanto, forse da un certo punto di vista più importante, che è stato citato più volte che all'enciclica di Papa Francesco. Laudato sì. Sono entrambi documenti che, come ha sempre detto Giorgio Nebbia a proposito dell'ecologia, sono sovversivi. Se noi stessimo, se noi stiamo, cerchiamo di stare ai fondamenti di questi documenti, l'unica cosa che possiamo chiedere a noi stessi, alla società che ci sta intorno, è di rovesciare i paradigmi, dei modi di produzione e della tecnica. Quindi è un documento che è difficile, sicuramente. Proseguo. È un documento prezioso. In che senso? Nel senso che non dice niente di nuovo. In realtà non è un documento innovativo. Tutte le cose che stanno scritte là sono cose che circolano nel mondo ambientalista e fuori dal mondo ambientalista, se non da anni, da decenni. Il grande pregio, la cosa molto importante, forse la novità, è la capacità di tessere tutte queste cose, di metterle insieme, le alte, le basse, la proposta, la visione, inserirci la questione dei beni comuni. Sono tanti gli spunti che vengono omogeneizzati, riportati dentro e ciascuno di questi elementi prende significato in parte nuovo da questa tessitura. E' un documento che nasce, credo, io non ho seguito la sua genesi, però nasce da una contingenza. Io in questi anni quando ho studiato, sto studiando, la genesi del WWF, il Gruppo Verde, un momento fondamentale fu lo scandalo del Parco d'Abruzzo. Fu un elemento catalizzatore, mi può correggere Betto se sbaglio, che diede slancio al Gruppo Verde, poi al WWF, eccetera. Credo che, correggetemi se sbaglio, l'elemento catalizzatore di questo importante documento sono le proposte di revisione della legge quadra. Non lo chiamo scandalo, sarebbe eccessivo, ma comunque è un elemento catalizzatore di risposta, di reazione. Questi due mondi, questi due documenti, la carta di Fontecchio con i suoi soggetti, le proposte di revisione della legge quadro con i loro soggetti, presuppongono due visioni opposte e proposte in qualche misura opposte. I promotori della revisione non enunciano una visione ampia. La carta di Fontecchio parte da una visione ampia e poi fa le proposte. direi che quello che è in gioco, però posso sbagliare, quello che è in gioco in questo, non lo chiamiamo conflitto, però in questo dissenso, è una visione che fa propria, io lo dico con un termine che uso con i miei studenti all'università, la leggemonia neoliberista, con i suoi elementi fondamentali, quindi la necessaria redditività di tutto, quindi la riduzione degli spazi di democrazia in nome di una decisione che sia più legata ai portatori dei poteri forti e tutto questo lo si rivede nelle proposte alternative diverse che stanno nei due documenti, in maniera plastica. Quindi è un'oggettiva contrapposizione tra un paradigma neoliberista e i valori invece dall'altro lato che in varie forme, in tante forme, dagli anni 50 in poi hanno portato alla stesura e poi all'approvazione della legge quadra, che erano valori invece diversi, enunciati diversamente dalla cultura laica che era tipica di Italia Nostra, quella socialcomunista che si esprimeva nelle regioni e che erano valori collettivi. Oggi diremmo di bene comune, allora non l'avremmo detto, oggi lo possiamo esprimere in questi termini. Ecco, nella carta di Fontecchio si saldano, questo è un elemento importante, estremamente positivo, una visione ampia, ambiziosa, organica, una proposta che potrebbero anche arricchirsi naturalmente negli elementi di proposta di provvedimenti e la denuncia. Proposta, visione e denuncia sono i tre pilastri che inseparabilmente tra loro hanno consentito di arrivare alla legge quadra, hanno consentito al movimento ambientalista degli anni 60, 70, 80 di conseguire i propri successi. Un richiamo insistito al realismo, all'adattamento all'esistente costituisce una rinuncia sostanziale a questi tre pilastri, secondo me. Io mi auguro invece che questo realismo così modesto, tutto sommato, non prevalga e che la carta continui a seminare speranza e progettualità. In che modo? Qui è sicuramente molto difficile e ovviamente concludo con questo. Questo incontro è un incontro importante, non è il solo non nasce dal nulla. In questi cinque anni sono stati molti momenti in cui ci siamo visti, in cui abbiamo cercato di dialogare e ce n'è stato uno a Bologna, ce ne sono stati spessi organizzati dal gruppo di San Tossore. Questo significa che c'è un ambientalismo che questi valori li conserva e continua a lavorarci. E questo forse è uno, secondo me, il più importante di questi momenti. Il che significa che sta crescendo questa capacità di collegarsi, di dialogare, di aprire, di comunicare. Anche scontando eventualmente una provvisoria perdita di pezzi che la 394 a suo tempo la fecero. Grazie. Io cuido con una battuta sull'intervento di Rizzo, anche io che era un po' una provocazione, il suo. Sono d'accordo con l'esortazione finale a unire a... Sono meno d'accordo sull'elenco di non possunso oppure non ha molto senso farlo. E dico semplicemente una battuta. Antonio Cederna, che è stato il maestro dei giornalisti ambientali italiani, e non solo quello, io credo che in vita sua abbia rimediato molte più sconfitte di quante vittorie abbia ottenuto. Anche nell'ultimissima parte della sua vita, quando era un personaggio. Ma io credo che siano anche, e forse soprattutto, le tante battaglie combattute e perse che hanno contribuito a creare questa legge, le altre leggi che si sono fatte negli anni Ottanta. Quindi vanno tentate anche le cose che probabilmente non sembrano molto sensate a un primo sguardo.